Stiamo potenziando il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, quindi è normale che questa visita ci riempia di gioia, anche di apprezzione perché vogliamo fare trovare il meglio di quello che è il centro pare nostro. E quindi è un impegno quotidiano in più rispetto a tutti gli altri anniversari che abbiamo celebrato in questi 24 anni. Che cosa vi aspettate da questa visita? Ci aspettiamo sicuramente un sostegno anche morale da parte del Papa e poi il fatto che stia venendo nel luogo del martirio e presso la casa del Beato Giuseppe Puglisi che il centro ha dovuto riacquistare dopo 20 anni e ridare alla collettività è un segno di riconoscimento. Vuol dire che quello che abbiamo fatto e abbiamo pensato è stato un buon lavoro. Brancaccio come sta reagendo a questa ormai imminente vista? Brancaccio ha sempre reagito in maniera, come dire, timida a questa manifestazione. L'abbiamo visto quando hanno beatificato Padre Puglisi e lo stiamo vedendo anche oggi. Quindi uno passando per le vede di Brancaccio non vede un grande movimento. Però il fermento dentro quella comunità c'è e sta a noi prendere queste potenzialità e svilupparle. Grazie. 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 Grazie.